Ciao amici da Frenbianconero, commentiamo quello che ha detto Di Marzo su Sky Calciomercato che si parla di un ipotetico, di un bloccaggio della Juve per Morata, allora lì si vuole bene, ha attaccato la Juve sicuramente e anche qua attraverso magari qualche amico che conosco ha sempre ideato priorità anche questa volta in questa finestra di mercato alla Juve e questo gli va dato atto, però noi dobbiamo cominciare a cambiare strada, questo dovrebbe diciamo succedere in caso dovesse partire Kenny, parto prima da Kenny, intanto spero che questo vocifolare di ritardi, poi una pagina su altri social è andata veramente dritta dicendo che era fuori rosa ma così non era, per me Kenny è un giocatore sottovalutato soprattutto perché è venuto nell'annata dove la Juve ha dato via Ronaldo e diciamo che il sostituto di Ronaldo è stato Kenny, ma non è affatto così, Kenny è arrivato perché serviva una punta, c'era ancora il povero Raiola, perciò la Juve negli ultimi due giorni, che è quello un errore gravissimo, vendere un top player negli ultimi tre giorni di mercato, prendi Ken per fare numero, per mettere la punta in più che ti serviva perché una punta è andata via, però noi dobbiamo ricordarci, il finale di stagione dell'anno scorso è stato importante, lui stesso ha detto che ha cominciato a capire la vita da professionista, si è preso uno staff, un nutrizionista, tutte cose personali per riuscire a far evidenziare quelle che sono le caratteristiche, io lo dico da sempre, che è un giocatore importante, che è un giocatore che si sa muovere, non stiamo parlando di un fenomeno, di un campione assoluto, stiamo parlando di un ottimo giocatore e anche lui giovane, perciò anche lì coerenza perché qualcuno è giovane, non si può dire nulla, qualcuno è giovane, deve andare via, è scarso, non è buono, secondo me Ken è quello che si muove meglio in area di rigore degli attaccanti che abbiamo attualmente in Rosa, anche di Milik, ed è veramente un giocatore scaltro, un giocatore che sa come si fa gol, è un giocatore che ora è più leggero, è un giocatore che ha uno scatto, è un giocatore che sembra, almeno nel finale, come ho detto prima, di stagione dell'anno scorso, di stare più sul pezzo, poi se la società ha visto che si sta ricominciando a comportare in una certa maniera, che sta facendo cose che non deve fare, è anche giusto che prenda dei provvedimenti, poi se lo deve dar via, lo può dar via, ma Ken se dovesse andare via, preferire un altro giocatore, togliendo Lukaku che non c'entra niente con la cessione di Ken secondo me, perché se no se giuntoli si dice questione di costi non può essere l'uscita Ken per Lukaku, poi tutto può succedere nel calciomercato, però mi aspetto giocatori come David, come Wai, nel senso se esce Ken non dico un profilo uguale come caratteristiche, ma uguale a livello anche di età, perché poi devi un po' correggere, io non sono contro quelli giovani, sono soltanto contro quelli che dicono che i trentenni ormai sono da buttare nel water, quello no, però se esce, facciamo per assurdo, non succede, ma se dovesse uscire Blauvic per entrare Lukaku, stiamo parlando comunque di 23-30, se esce Ken non può arrivare un altro trentennio, questo per me sarebbe un errore, perciò secondo me Ken alla fine resterà, l'altro affare saranno problemi loro, Morata, anche basta, Morata è un giocatore che è un morale, Morata è un giocatore che deve costruire, ci deve essere un contesto veramente positivo, noi stiamo costruendo, abbiamo bisogno anche di giocatori che hanno un po' di carattere, dove spronano, dove trascinano un po', lui se la squadra va giù di morale, va giù di morale anche lui, e non parlo, parlo di caratteristiche, parlo che ogni tanto in una squadra ci vuole anche un po' dell'anno, quando una squadra vedi cadere, vedi la tua squadra cadere, ci vuole sempre qualcuno in campo che la tiri un po' su a livello caratteriale, agonistico, noi di qua, qua secondo me negli ultimi anni abbiamo delle carenze e Morata non andrebbe a migliorare questa carenza, senza nulla togliere che Morata è un ottimo giocatore, non ne vado matto, ma sicuramente un giocatore che si dà da fare, un giocatore che non disturba l'acquire del gruppo, è un giocatore che accetta se fare una partita titolare, uno in panchina, è un giocatore che ha anche delle priorità, perciò la famiglia numerosa, bellissima famiglia anzi direi, c'è l'unica cosa che veramente gli brillano gli occhi quando è uno dei pochi, dico pochi perché ho tra virgolette fonti molto vicino a Morata, dove è uno dei pochi veramente che anche con la Roma, con l'Inter, che l'Inter bastava affondasse un po', e gli ho detto aspettiamo perché evidentemente la Juve già l'aveva contattato questa storia di Kennis e dovesse uscire, però direi anche no, questo è sempre parere mio, perché se no poi facciamo come l'Inter, rigiovaniamo la Rosa, esce Zeko ed entra Arnautovic, va via Lukaku ed entra Sanchez, va via Correa, hanno trattato Bologon, dicono i giornalisti, hanno trattato Scamacca così per poi andare a prendere un 34enne e un 35enne, perciò il il calciomercato è strano, può succedere di tutto, io non mi aspetto questo scambio, cioè non me l'aspetto io, non perché non voglio io, non credo che faccia questa cosa qua, anche Giuntoli, se poi è strettamente riportato all'aspetto economico, beh lì ragazzi miei possiamo farci ben poco, sia io che voi, perciò io aspetterei, non sembra a me, anche perché Morata, anche se si può abbassare un po' il contratto come ha già fatto nell'altro anno, nella volta che è venuto, i costi costano tanto anche lui, perciò non la vedo, ecco, a Ken mi aspetterei se deve uscire Ken, tra virgolette turno, ma sorpresa, che non so, una prospettiva, visto che poi tu hai Milik, Vlaovic, che sono delle certezze, c'è comunque Chiesa che sta facendo la seconda punta e la quarta può essere un giocatore, ognuno gli può piacere un giocatore qualsiasi, per esempio il Bologun dell'Arsa, un giocatore veramente ottimo, certo costa tanto, un giocatore di prospettiva ottimo, a me piace David e Wai, come preferenza se parliamo di punte giovani, però io Ken non lo distruggo così facilmente, è un giocatore veramente interessante, se andiamo a vedere già i gol che ha fatto, comunque nei campionati che ha fatto, e anche l'anno scorso rispetto al minutaggio fatto, per esempio ha fatto gli stessi gol di Oliund, giocando anche meno, non sono paragonabili, hanno caratteristiche diverse, Oliund addirittura ha tre anni più giovane, però per far capire che a volte la verità sta nel mezzo, ma ci tengo sempre a dire che io non ho ragione, le mie sono semplici opinioni, ogni tanto qualcuno nei commenti va dritto a piombo su di me, tu sei, tu fai, io non faccio niente, perché a me quello che farà la Juve mi andrà bene, il problema è che quando si chiuderà il mercato e quando cominceremo a giocare, poi restiamo, restiamo poi nelle posizioni, perché non è che poi fra sei mesi chi era definito un fenomeno poi lo scarichiamo, nel senso che poi dobbiamo aiutare la squadra e tutti a fare un buon campionato, perciò io anche su Twitter c'è qualcuno che dopo il gol di Vlaovic ho esultato ovviamente, ho scritto Vamos Dusa nonostante sia stato un rigore ovviamente, però è sempre un gol, vanno sempre tre punti ed è sempre un gol di centro avanti, ma tu Lukaku sono cazzate, sono cazzate, sono cazzate perché il calcio è la materia, una delle materie più opinabili e se non c'è opinione che cavolo dobbiamo dire se la dovessimo pensare di tutte la stessa maniera, buona serata a tutti, sempre Forza Juve, sempre e solo Forza Juve, il resto conta zero, io che è il Morata, non lo farei mai, ma io, ciao a tutti.